Partita la fase 2 del trasporto ferroviario nella nostra regione, da ieri sono stati anche rafforzati i controlli nei principali scali ferroviari e in particolare a Pescara con la presenza di agenti della Polfer, uomini della protezione civile e di ferrovie dello Stato. Per accedere in stazione bisogna essere in possesso del biglietto di una autocertificazione. Se nel periodo dell'emergenza coronavirus hanno circolato in Abruzzo appena il 27% dei treni con 40 convogli giornalieri ed un crollo del traffico passeggeri arrivato fino al 90%, da ieri si è passati al 50% dei convogli con oltre 80 treni regionali e interregionali in funzione. Come riferito dei vertici di Trenitalia, nel primo giorno di fase 2 sono stati prenotati dai passeggeri il 20% dei posti disponibili, considerando che in base al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri i posti occupabili sono il 50% di quelli realmente disponibili e tutti a sedere. Vietato stare in piedi all'interno dei treni. I posti dove non è possibile sedersi sono contrassegnati da dei marker. Sui treni disponibili ci sono locandini informative, avvisi sonori, dispenser con liquidi disinfettanti e percorsi calpestabili per le entrate e le uscite. I passeggeri devono indossare le mascherine. Trenitalia, che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato, si appella all'utenza per il rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni sanitarie. Al momento, sulla tratta adriatica e dunque in Abruzzo e Molise, non è previsto il ritorno delle frecce e dunque dei treni a lunga percorrenza. Ieri, come riferisce Trenitalia, nel nostro paese sono stati 3.800 i treni regionali in circolazione, oltre a 12 frecce e a 6 intercity che collegano le principali città italiane.